Niente stipendio negli ultimi due mesi. Una situazione che riguarda la quasi totalità del parco giocatori della Triestina, dello staff tecnico e degli uffici stampa e marketing. Una bolla destinata a scoppiare che proprio questa settimana la vigilia di un'ulteriore scadenza mensile ha deflagrato nello spogliatoio della Triestina dove diversi atleti hanno pronunciato il più classico dei non ci sto. Alla maretta tra calciatori, alcuni molto più vicini alla società non preoccupati, altri invece decisamente più critici, ha provato a rispondere il presidente Marco Pontrelli che giovedì ha parlato alla squadra rassicurando sul fatto che gli emolumenti verranno garantiti. Datemi un po' di tempo e abbiate fiducia avrebbe detto il numero uno dell'Unione che aveva comunque pagato a tutti la prima mensilità ed ha poi citato nel suo discorso alla squadra la grave posizione debitoria della Triestina. La società infatti deve affrontare 32 protesti da parte di creditori conseguenti alle precedenti gestioni per complessivi 600 mila euro di debiti. Una situazione nota che rischia però di diventare incandescente anche dal punto di vista sportivo alla vigilia peraltro dello scontro diretto con il DRO. Se i nervi dovessero saltare definitivamente anche in spogliatoio sarebbe infatti difficile pensare alla auspicata inversione di tendenza sul fronte ai risultati. Finora magrissimi visti i cinque punti e le zero vittorie con lo spettro della retrocessione al momento difficile da non vedere all'orizzonte.